Non so chi tu sia, tu che stai guardando questo video, ma sono sicuro che se sei tifoso della Roma almeno un po' ti sei buttato giù dopo la sconfitta di lunedì scorso contro il Bologna e sono d'accordo perché comunque non eravamo più abituati a perdere in maniera anche così netta se andiamo a vedere dall'arrivo di De Rossi in poi erano arrivate solo due sconfitte una in influente contro il Brighton in cui c'era anche stato quel famoso gol annullato a Dazmun in maniera inspiegabile e l'altra era arrivata in casa contro l'Inter che tutto sommato è una sconfitta che ci può stare considerando anche che comunque tu nel primo tempo sei riuscito a fare un'ottima partita invece contro il Bologna, questo è giusto un preambolo prima dell'argomento principale ti sei fatto diciamo dominare per lunghi tratti anche a causa della stanchezza europea e hai perso senza appello poi sì, su Maresca si può parlare e dire che magari non è il migliore arbitro in circolazione però credo che sicuramente la sconfitta sia stata netta e meritata detto ciò bisogna comunque guardare avanti perché adesso arrivano altre partite importanti tra campionato, tutti i big match consecutivi che avremo contro Napoli, Juve e Atalanta e soprattutto in Europa con l'andata e il ritorno delle semifinali di Europa League contro il Bayern Leverkusen quindi non abbiamo veramente tempo per piangerci addosso anche perché domani giocheremo gli ultimi 20 minuti contro l'Udinese e un'eventuale vittoria, cosa che chiaramente ci auguriamo tutti ci permetterebbe comunque di stare più tranquilli anche in ottica a quinto posto prima di cominciare però con l'argomento di oggi che è l'indiscrezione che sta uscendo in questi ultimi giorni di Federico Chiesa alla Roma volevo farvi vedere l'ultimo pacco che mi è arrivato dal sito Calcio 2024 l'altra volta vi ho fatto vedere la prima maglia, il primo completo della Roma di quest'anno e questa volta sono andato sulla seconda maglia come vedete Maya Adidas, Riyad Season, ho aspettato perché l'altro sponsor avevo paura portasse sfortuna quindi preferite evitare e ho scelto uno dei nuovi acquisti diciamo dello scorso mercato estivo e cioè Leandro Paredes un gradito ritorno a centrocampo con il giocatore che dopo un inizio un po' sottotono con De Rossi soprattutto è riuscito a ritrovarsi tra l'altro ereditando il suo numero 16 e diventando un giocatore importante per il centrocampo della Roma che purtroppo mancherà sabato prossimo contro il Napoli mi hanno mandato anche i calzettoni, eccoli qua, con il numero 16 e scusate i pantaloncini e questi invece sono i calzettoni eccoli qua se volete anche voi materiali di questo tipo replica di buona qualità quindi non identico all'originale ovviamente anche per un discorso di prezzo vi lascio il link qua sotto in descrizione se volete usare il codice GG94 avrete il 10% di sconto se acquisterete tre prodotti avrete una maglia in omaggio se ne acquisterete invece cinque ne avrete addirittura due questo per quel che riguarda il prodotto in omaggio che non può essere un pantaloncino o un calzettone solamente un altro tipo di maglia di questa stagione detto ciò possiamo cominciare allora parliamo di Federico Chiesa giocatore alla Juve ormai già da diversi anni che dopo l'infortunio subito guarda caso contro di noi nel lontano gennaio 2022 diciamo non sta vivendo il suo momento migliore dal punto di vista di forma e di rendimento a livello numerico, a livello di rendimento tutto sommato se andiamo a vedere ha collezionato finora 31 presenze condite da 8 gol e 2 assist considerando l'attitudine non particolarmente offensiva della Juve e il fatto che appunto non parliamo di un centravante aver segnato 8 gol di cui 7 in campionato e 1 in Coppa Italia non è senz'altro male però diciamo che nelle ultime settimane le prestazioni del giocatore non sono andate increscendo tant'è che sono cresciute diciamo un po' le lamentelle di alcuni tifosi della Juve che non lo reputano più diciamo necessario o comunque indispensabile per l'attacco bianconero diciamo che la situazione è un po' particolare perché il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 quindi sicuramente in estate i bianconeri dovranno fare le opportune valutazioni per capire cosa è meglio fare se cederlo magari guadagnandoci qualcosina oppure tentare il rinnovo e vedere un po' se le cose andranno bene perché altrimenti se il giocatore non dovesse accettare c'è il rischio che la stagione dopo lo può perdere a zero e comunque un giocatore di questo livello tutto sommato relativamente giovane ancora 26-27 anni perderlo a zero sarebbe comunque negativo per le casse del club di Torino ed infatti la situazione è ancora un po' in divenire perché si sta cercando di capire se il giocatore potrà rinnovare per altre stagioni consecutive e appunto si sta cercando di vedere se ci possono essere squadre effettivamente interessate al giocatore e magari disposta a spendere un po' per il suo cartellino ora come ora vi dico già da subito che anche con le ultime indiscrezioni non si parla di offerta ufficiale non si parla di cifre effettive perché ancora non c'è nulla di effettivamente concreto però si parla di un interesse di un interesse della Roma e nello specifico di Daniele De Rossi che lo considera comunque un giocatore importante per dare l'infa vitale al reparto offensivo e su questo sono assolutamente d'accordo un giocatore con le sue caratteristiche comunque con un ottimo dribbling una buona capacità palla al piede veloce e dinamico può starci benissimo nel 4-3-3 appunto di Mister De Rossi mettendolo lì a sinistra alternandosi con El Charaway secondo me ti renderebbe la fascia comunque sicura e affidabile rispetto magari alla situazione attuale in cui diciamo da quella parte non hai grandissime alternative se non Zaleskic con tutto il bene del mondo non è certamente un giocatore straordinario e non spicca per intelligenza tattica e qualità effettive sul campo che siano cross, dribbling o quello che volete voi fare una sorta di upgrade da Zaleskic a Chiesa sarebbe veramente tanta tanta roba al netto delle complicazioni che potrebbero arrivare appunto per quanto riguarda il cartellino e lo stipendio del giocatore dovrebbe prendere a lei circa sui 5 milioni alla Juve e quindi non è uno stipendio di poco conto soprattutto se tu in attacco è un'altra situazione in stallo per quanto riguarda Romelu Lukaku qua apre chiude una parentesi veloce io sinceramente non so quale potrebbe essere la soluzione anche perché è un giocatore che non dà particolari certezze sotto questo punto di vista io credo che se si potesse rinnovare il prestito per un altro anno sarebbe fantastico perché magari riesce a tenerlo un altro anno in più senza dover per forza spendere quei 40 milioni per il cartellino d'altro canto io penso che per il Chelsea sia un'opzione veramente poco fruttuosa nel senso che alla fine un club arabo o altre squadre disposte a comprarlo anche spendendo una trentina di milioni le potranno trovare sicuramente l'unico modo con cui tu potresti fare una cosa del genere magari cercare di convincerli in qualche modo oppure pensando ad un'eventuale cessione di Abram come si era parlato ormai diversi mesi fa oppure non lo so magari convincere il giocatore a restare un altro anno a Roma è chiaro che qua il discorso Champions League diventa molto importante cioè se tu non dovessi qualificarti neanche quest'anno reputo impossibile la conferma del Belga se dovessi qualificarti che sia vincendo l'Europa League o arrivando tra le prime cinque già è un po' più possibile ma non è chiaramente facile e detto ciò è chiaro se la Roma in qualche modo dovesse confermare Lukaku l'opzione chiesa diventa più complicata diciamo che è difficile pensare che la Roma possa tenere Lukaku Di Bala Chiesa El Charau e tutti i giocatori più forti del reparto offensivo quindi è più probabile che magari Chiesa possa arrivare in seguito alla partenza di Lukaku e lì poi chiaramente dovrei fare ulteriori calcoli per quanto riguarda invece il ruolo di centravanti perché io sinceramente con Abram non mi sento al sicuro tralasciando che sta ancora cercando di tornare in forma ma io non mi dimentico tutta la scorsa stagione in cui comunque non ha avuto neanche così tanti infortuni ed è stata una stagione imbarazzante nel complesso e quindi io guardando la stagione scorsa e queste prime battute non è che do per scontato che faccia male però non sarei tanto tranquillo se dovessi giocare il prossimo anno per esempio con Abram e Azmun come due punte soprattutto se metti caso dovessi stare in Champions League non mi piacerebbe per nulla una cosa del genere con tutto il rispetto che ho per l'iraniano e per l'inglese e poi è chiaro prendendo Chiesa comunque avresti più qualità e imprevedibilità sulle fasce per quanto ho visto la partita ieri contro la Lazio e a parte un assist non è che abbia fatto chissà che però non è che posso giudicarlo da una partita sola però perderesti qualcosa lì in mezzo quindi un po' diciamo dovresti capire un po' cosa è meglio fare se puntare ad avere un centramanti di peso e lasciare gli esterni più o meno similari a questi non dico tenere Zaleschi ma prendere un giocatore più o meno su quelle qualità oppure se andare su un giocatore di livello perché a mi chiesa piace tanto e per me nel 4-3-3 farebbe veramente famiglie nella Roma di De Rossi essendo anche giocatore italiano secondo me può essere un fattore da non sottovalutare perché adesso non è che lo dico perché De Rossi privilegia gli italiani agli stranieri ci mancherebbe altro però se andiamo a vedere tutti gli italiani da quando è arrivato lui sono cresciuti di rendimento Mancini Spinazzola Cristante Esciarawi tutti giocatori che magari facevano bene anche prima però con lui sono cresciuti ulteriormente e quindi secondo me sarebbe perfetto per ruolo per compiti che dovrebbe osservare sia difensivamente che offensivamente parlando e per tutto quello che potrebbe dare al reparto offensivo giallo-rosso quindi in sintesi il discorso qual è? a me chiesa piacerebbe tantissimo ovviamente bisogna valutare le cifre sia di cartellino che di stipendio ma se il giocatore non vuole rinnovare dubito che la Juve possa chiedere 40-50 milioni per un giocatore che va in scadenza l'anno dopo bisognerebbe poi risolvere la grana tra virgolette stipendio ma sono tutte cose che affronteremo magari in un secondo momento quello che posso dire è che a me piace che sono contento dell'interessamento dei giallorossi ma bisognerà comunque capire su cosa andare a puntare se avere un esterno forte e un centravanti più di medio livello oppure il contrario detto questo ragazzi allora fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate ci vediamo presto per un altro video un saluto e sempre comunque forza Roma ciao ragazzi ciao